E' visitabile fino al 24 aprile nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, Piersinale 14G a Torino, la rassegna pittorica Piemonte, Chiese, Santuari, Abbazie. All'inaugurazione con il maestro d'arte Mauro Chessa sono intervenuti Cesare Verniano, presidente dell'Associazione Culturale Il Cavalletto, e Barbara Rotta, storica e critica d'arte. L'incontro è stato moderato dal direttore della comunicazione istituzionale dell'Assemblea, Rita Marchiori. In mostra 35 opere dedicate a importanti edifici religiosi, tra i quali la Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, la Basilica di Superga e l'Abbazia di Novalesa.